Luziano Revisore Luziano Revisore Vi chiedo di chiudere gli occhi. Ora, non vedete più niente di ciò che vi circonda. Sempre con gli occhi chiudi vi chiedo di stare in silenzio per una frazione di secondo. Ecco, ora non vedete e non sentite, eppure esistete ancora. Adesso vi chiedo una terza cosa. Provate a sentire la sensazione che vi arriva dallo stare seduti appoggiando la vostra schiena sulla sedia, oppure quando toccate con i vostri piedi a terra. Adesso provate a non sentire questa sensazione. Difficile, forse è anche impossibile, perché la sensazione del tocco è ciò che vi riporta continuamente a voi stessi, alla vostra esistenza. Ora potete aprire gli occhi. Se pensiamo al tocco, dobbiamo sapere che si sviluppa a partire dalle primissime ore di vita già nell'utero, ed è il primo senso che si sviluppa. Se andiamo a pensare quindi a quanto importante è questa sensazione del tocco, andiamo, dobbiamo andare indietro in molti anni, quando è stato fatto un esperimento in cui si è voluto proprio domandarsi quanto è importante il senso del tocco. E hanno preso queste scimmiette appena nate, le hanno messe dentro una gabbietta e l'interno c'erano due scimmie di ferro, una produceva il latte e l'altra era semplicemente ricoperta da un peluche. Quello che hanno fatto le scimmiette, tutte le scimmiette che sono state testate, era andarsi a prendere il latte dalla scimmia che produceva il latte e poi andare a stare il resto della giornata accovacciati sulla scimmietta ricoperta di peluche. Questo per dire cosa? Che la sensazione della protezione e del calore è ciò che è talmente importante da essere un bisogno primario al pari del mangiare. È così importante che addirittura alcuni ricercatori hanno cercato di studiare le cellule del tocco e hanno trovato che esistono delle cellule particolari che si chiamano CT cell, cellule tattili, che si attivano in modo particolare per una sensazione che è lenta, di tocco lento, all'interno abbastanza esteso e con una superficie, con una temperatura superiore ai 30 gradi. Il tocco umano. Questo tocco viene chiamato tocco affettivo. Allora, per farvi capire meglio, il nostro sistema nervoso risponde, i segnali del sistema nervoso rispondono a una velocità di 400 chilometri orari prima di arrivare al cervello. Le cellule invece che rispondono a questo tocco lento viaggiano a una velocità di 2 chilometri orari perché arrivano a un'altra parte del cervello. Quella parte, quindi diversamente dai segnali che arrivano alla corteccia somatosensoriale, che ci dice che cosa stiamo toccando, dove, per quanto tempo, con che intensità, il tocco lento passa attraverso le emozioni che ci dicono che cosa proviamo quando veniamo toccati. Quindi è estremamente importante perché questo tocco affettivo ci riporta a chi siamo, quello che siamo in relazione a ciò che ci circonda. Oltre a questa area che si chiama il giro insulare posteriore, quello che succede è che noi attiviamo anche un'altra area specifica, che viene definita giro angolare. Il giro angolare è interessante perché è un'area che si attiva in tante funzioni, come per esempio estrapolare le informazioni che provengono dalle parole, oppure recuperare le informazioni che sono state depositate in memoria, o ancora quando dobbiamo relazionare con le altre persone. Ma in modo particolare il giro angolare fa parte di un network che viene definito default mode network ed è un network che si attiva ogni qualvolta pensiamo a noi stessi e ogni qualvolta agiamo in modo creativo. Cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui noi andiamo a stimolare questo giro angolare, che cosa succede? Questo è quello che hanno trovato i ricercatori, che si trova quella sensazione extracorporea, come se il nostro sé mentale sorvolasse il nostro sé fisico, il nostro corpo fisico. Quindi il tocco affettivo ci riporta continuamente a noi stessi, a ciò che siamo attraverso le emozioni, cioè esseri umani. L'aspetto importante è che ci sono anche delle ricerche che hanno dimostrato che il tocco affettivo è implicato nella costituzione del programma epigenetico. Cerco di farvi capire. All'interno del nucleo delle nostre cellule si trova il DNA. Il DNA è fatto di due filamenti in cui sono scritte le informazioni che servono per produrre le proteine, che sono gli elementi base di qualsiasi organismo. Ora, se facciamo finta che questo DNA sia un libro di ricette, all'interno del libro di ricette immaginate dei segnalibro. Questi segnalibro ci danno indicazioni di quali ricette vogliamo fare, ovvero quali geni verranno trasmessi. Allora, a questo vuol dire ancora di più però, perché quando noi sviluppiamo, quando è che sviluppiamo questi segnalibri? In realtà li incominciamo a sviluppare quando siamo nell'utero, attraverso l'interazione con l'ambiente, lo sviluppo fetale, ma non solo, anche quando nasciamo in relazione a ciò che mangiamo, a ciò che respiriamo, alle esperienze traumatiche o alle esperienze positive che noi viviamo. Questi aspetti epigenetici si tramandano di generazione in generazione, da genitore a figlio. E secondo alcune intuizioni recenti dell'epigenetica comportamentale, le esperienze traumatiche che noi abbiamo vissuto nel nostro passato o che hanno vissuto i nostri antenati, sono come hanno creato delle cicatrici molecolari nel DNA. E questi, i nostri segnalibri, queste cicatrici molecolari, si attaccano sull'impalcatura della nostra struttura genetica. Questo vuol dire che noi abbiamo ereditato dai nostri avi non solo il naso grande, come la mia nonna, o gli occhi scuri, ma abbiamo anche ereditato la tendenza a, per esempio, entrare in depressione, se i nostri antenati hanno vissuto degli stati di negligenza durante la loro primissima infanzia. Questo è importante perché il tocco affettivo diventa l'aspetto invece che può dare quelle espressioni non di negative, ma positive di relazione che poi noi trasmetteremo ai nostri figli. Se nasciamo ciechi, non riusciamo a svilupparci tranquillamente, riusciamo ad avere una mente creativa. Se nasciamo sordi, altrettanto, ma se nasciamo con la capacità di rilevare la sensazione tattile, ma non veniamo toccati, non veniamo toccati in modo affettivo, noi non ci svilupperemo come gli altri bambini. Noi perché sappiamo queste cose? Ci sono state delle situazioni, per esempio in Romania, sotto il governo, la dittatura direi di Ceausescu, dove i bambini erano, si ritrovavano negli orfanotrofi e venivano privati totalmente del contatto con le altre persone, non venivano abbracciati, non venivano accarezzati, venivano solo nutriti. Beh, questi bambini hanno riportato dei deficit a livello psicologico, disturbi neuropsichiatrici, deficit anche a livello fisico. Ma la cosa interessante è che se si poteva intervenire, quindi quando questi bambini sono usciti dagli orfanotrofi, sono stati adottati, ecco, quei bambini a cui era stato fatto una delle stimolazioni a livello tattile, anche solo per mezz'ora al giorno, erano in grado di recuperare al pari degli altri, ma solo, esclusivamente, se ricevevano questo intervento entro il primo anno di vita. Questo per dire che la tempistica, il tempismo, quando intervenire, più precocemente si interviene, meglio è perché possiamo, in effetti, risolvere delle situazioni. Quindi, io credo che l'abbraccio, l'avere la possibilità di essere toccati, è ciò che ci riporta continuamente a noi stessi, è ciò che ci fa sentire quello che noi siamo, esseri umani. Allora, ci sono altre tecniche, come per esempio la risonanza magnetica, perché sorge la domanda, ma chi siamo? La risonanza magnetica, attraverso questi studi, si è potuto visualizzare che ci sono delle aree all'interno del nostro cervello che si attivano prevalentemente quando pensiamo a noi stessi. Sono state fatte delle ricerche su quanto delle persone che dichiarano di essere sole e di vivere un profondo stato di solitudine, quando gli viene chiesto di pensare alle persone che possono avere vicino, persone che non conoscono, queste aree cerebrali del sé si attivano molto meno. Questo per dire cosa? Che quando siamo soli, ciò che viene meno non è la relazione con l'altro, ovvero è anche quella, ma in primis è la relazione con noi stessi, l'idea di noi stessi. Se pensiamo a delle situazioni di solitudine o alle incapacità di relazionarsi con le altre persone, come per esempio nel caso dell'autismo. Ecco, intervenire su questa dimensione attraverso delle stimolazioni relative al sé, al sé corporeo, vuol dire lavorare sullo sviluppo e il tocco affettivo è la strada che ci porta a questa risoluzione. Quindi dobbiamo ricordare questa parola, tocco. Senza un tocco noi non possiamo relazionare con gli altri, così come però senza un contatto noi non esistiamo. Grazie.